Sono Angelo De Riu, arrivo dalla Sardegna. Ho avuto diversi problemi quando nella mia gioventù, diciamo, quindi fin da bambino, insomma, non c'erano tante possibilità di curare i denti. A questo punto avevo deciso di fare un lavoro definitivo. Mi sono rivolto a questa struttura di dottor Palmas, che avevo visto che era sardo. Mi sono trovato molto bene, ho trovato molta organizzazione. Invece qua mi sono trovato a mio agio, nel senso che era tutto già predisposto. Non sono andato verso cose, insomma, che mi hanno creato problemi per quanto riguarda sia le visite, la struttura, gli appartamenti dove ho alloggiato. E poi per quanto riguarda anche gli appuntamenti con i medici, molto organizzati, mi hanno dato un telefonino dove io appunto ricevevo le chiamate e venivo chiamato in struttura per fare i lavori che erano già programmati da loro. Per quanto riguarda la chirurgia, io ho fatto l'anestesia totale. E in effetti non ho sentito proprio niente, dolori. In seguito, poi piano piano, dopo due giorni, ho avuto i denti provvisori che mi hanno fatto, diciamo, rivivere un po' quella... il sorriso, il modo di... anche perché me li sono sentiti già con i provvisori, molto... cioè miei proprio, un modo di sentirti veramente a tuo agio in tutti i sensi. ecco, proprio non ho... non ho avuto nessun... nessun problema, ecco. Oggi, l'ultimo giorno che ho finito questo lavoro, già da ieri a oggi, che con un'altra ora di lavoro, di rifinitura, mi sento ancora più veramente realizzato, quindi sono veramente soddisfatto. Consiglierei, appunto, chi deve venire per fare un lavoro del genere questa struttura perché mi sono trovato bene sotto tutti i punti di vista. Sono Angelo De Riu, arrivo dalla Sardegna, ho avuto diversi problemi quando nella mia gioventù, diciamo, quindi... fin da bambino, insomma, non c'erano tante possibilità di curare i denti. A questo punto avevo...